Su questa Mercedes GLX 164, precedentemente dotata di sistema originale NTG 2.5, abbiamo installato il nuovo prodotto Alpine ILX-F903D, dotato di un display 9 pollici. Come potrete notare, la presenza all'interno del veicolo è decisamente notevole, ma esteticamente piacevole. Il tutto reso compatibile con i comandi a volante, e in questo caso, tramite l'ausilio di un processore con un amplificatore integrato, abbiamo mantenuto le funzionalità del sistema Armand Carbon. In abbinamento a questo prodotto, dotato tra l'altro di funzioni CarPlay ed Android Auto, abbiamo installato anche una telecamera anteriore e mantenuto la telecamera posteriore originale. direi quindi che l'integrazione è ottimale. Come anticipato il display da 9 pollici, quindi una dimensione decisamente vistosa e generosa, che permette appunto di usufruire di tutte le funzionalità con una visualizzazione ottimale. All'interno di questo Mercedes GL il risultato estetico è veramente accattivante. Se anche voi siete interessati a un'installazione simile a questa, su una Mercedes o su un altro tipo di veicolo, non esitate a contattarci. Io sono Andrea della Sail di Brescia, il nostro sito è sailcarshop.it. Un saluto a tutti e al prossimo video.